Lezione 1. Controllo del passaporto. Passaporto? Sì, è nella mia borsa. Hai portato il tuo? Oh no! Ho completamente dimenticato di prenderlo. Vado subito a prenderlo. Non preoccuparti, prenditi il tuo tempo. Non possiamo viaggiare senza i nostri passaporti. Sono tornato. Ho il mio passaporto adesso. Grazie per avermelo ricordato. Non è affatto un problema. È importante ricontrollare prima di partire. Assolutamente. Non vorremmo nessun singhiozzo all'aeroporto. Giusto. Ora assicuriamoci di avere anche tutti gli altri documenti necessari. Ho la mia carta d'identità, le carte di credito e l'assicurazione di viaggio. Tutto pronto. Ottimo lavoro, Anna. È fondamentale avere tutto in ordine per un viaggio senza intoppi. Sicuramente. Ho anche preparato una copia del nostro itinerario di volo e delle prenotazioni alberghiere. Ottima idea. Avere quei documenti a portata di mano renderà le cose più facili. Mi sono anche assicurato di portare della valuta locale per la nostra destinazione. Questo è intelligente. È sempre bene avere del contante a portata di mano per le spese immediate. Sono d'accordo. Ora, non dimentichiamo i nostri gadget e caricabatterie elettronici. Buon punto. Non vorremmo rimanere senza telefoni e fotocamere durante il viaggio. A proposito di gadget, ti sei ricordato di mettere in valigia l'adattatore universale? Sì, l'ho impacchettato. Saremo in grado di caricare i nostri dispositivi indipendentemente da dove ci troviamo. Perfetto. È incluso anche un piccolo kit di pronto soccorso, per ogni evenienza. È una precauzione saggia. La sicurezza dovrebbe sempre essere una priorità. E infine, ho preparato alcuni snack per il viaggio. È sempre bello avere qualcosa da sgranocchiare. Assolutamente. Viaggiare può farci venire fame e mangiare spuntini ci manterrà soddisfatti. Sono contenta che abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Ora possiamo concentrarci sul goderci il viaggio. Infatti. Intraprendiamoci in questa avventura e creiamo ricordi indimenticabili. Non vedo l'ora. Sarà un viaggio incredibile, John. Mi sento allo stesso modo, Anna. Divertiamoci moltissimo e abbracciamo ogni momento. Lezione 2. Impressionante decisione di assunzione. Ho già gestito una squadra e devo dire che è piuttosto impegnativo ma gratificante. È impressionante, John. La tua esperienza sarà sicuramente una risorsa per l'azienda. Grazie, Anna. Credo che le mie capacità di leadership aiuteranno a guidare il team verso il successo. Devo ammetterlo. Il tuo curriculum la dice lunga. È chiaro che sai come fare le cose. Apprezzo le tue gentili parole, Anna. Ho sempre creduto nel dare l'esempio e promuovere un ambiente di lavoro positivo. Questo è fantastico. Un ambiente di lavoro positivo può aumentare la produttività e la soddisfazione dei dipendenti. Assolutamente. Quando i dipendenti si sentono apprezzati e supportati, è più probabile che diano il massimo. E a proposito di squadre, devo dire che anche le vostre qualifiche sono piuttosto impressionanti. Grazie, John. Sono sempre stato appassionato di collaborare con gli altri e raggiungere obiettivi comuni. È meraviglioso. I giocatori di squadra come te sono essenziali per una dinamica di lavoro armoniosa e di successo. Credo che promuovere uno spirito collaborativo tiri fuori il meglio da tutte le persone coinvolte. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Insieme possiamo fare grandi cose e superare le aspettative. Assolutamente, John. Con le nostre competenze ed esperienze combinate, abbiamo il potenziale per avere un impatto significativo. Sono entusiasta delle possibilità che ci attendono. È piacevole lavorare con qualcuno capace come te. Il sentimento è reciproco, John. Credo che la nostra sinergia porterà a risultati straordinari. Sono sicuro che formeremo una squadra potente e contribuiremo alla crescita dell'azienda. Condivido la tua fiducia, John. Cogliamo questa opportunità e cerchiamo insieme di raggiungere l'eccellenza. Sono grata per la possibilità di lavorare al tuo fianco, Anna. Insieme, raggiungeremo la grandezza. Allo stesso modo, John. Facciamo la differenza e superiamo le aspettative in tutto ciò che facciamo. Ecco il nostro nuovo viaggio insieme, Anna. Non ho dubbi che sarà straordinario. Lezione 3. La dieta equilibrata. Ultimamente ho letto sull'alimentazione e mi ha fatto pensare all'importanza di una dieta equilibrata. Questo è un argomento interessante, John. Cosa comporta esattamente una dieta equilibrata? Una dieta equilibrata significa incorporare tutti i gruppi alimentari nelle giuste proporzioni per soddisfare le nostre esigenze nutrizionali. Capisco. Quindi, si tratta di avere una varietà di cibi per assicurarci di assumere nutrienti necessari. Esattamente. Si tratta di trovare il giusto equilibrio tra carboidrati, proteine, grassi, vitamine e minerali. Questo ha senso. Quindi, non dovremmo escludere nessun gruppo alimentare specifico dalla nostra dieta? Esatto, Anna. Ogni gruppo alimentare fornisce nutrienti unici di cui il nostro corpo ha bisogno per un funzionamento ottimale. Quindi, quali sono alcuni esempi di alimenti appartenenti a diversi gruppi alimentari? Bene, per i carboidrati, possiamo includere cereali integrali, frutta e verdura. E per quanto riguarda le proteine, possiamo avere carni magre, pollame, pesce, uova, fagioli e noci, giusto? Assolutamente. Buone fonti di grassi sani includono avocado, olio d'oliva, noci e semi. E le vitamine e i minerali? Frutta e verdura sono ottime fonti di vitamine e minerali. È importante mangiarne una varietà. Capisco. Quindi, non si tratta solo della quantità di cibo, ma anche della qualità e della diversità di ciò che mangiamo. Questo è corretto. Una dieta equilibrata assicura l'assunzione di tutti i nutrienti essenziali di cui il nostro corpo ha bisogno per prosperare. Sembra un approccio sensato per mantenere una buona salute e il benessere. Sicuramente lo è, Anna. Una dieta equilibrata non solo alimenta il nostro corpo, ma sostiene anche la nostra salute generale. Penso di dover prestare maggiore attenzione a ciò che mangio e assicurarmi di seguire una dieta equilibrata. È sempre bene essere consapevoli delle nostre scelte alimentari. Piccoli cambiamenti possono fare una grande differenza. Sono d'accordo, John. Sono motivato a fare scelte più sane e a cercare una dieta equilibrata. È fantastico sentirlo, Anna. Sosteniamoci a vicenda in questo viaggio verso uno stile di vita più sano. Assolutamente, John. Insieme, possiamo apportare cambiamenti positivi e godere dei benefici di una dieta equilibrata. Alla nostra salute e al nostro benessere, Anna. Che possiamo nutrire il nostro corpo con il giusto equilibrio di nutrienti. Lezione 4. Controllo di sicurezza in aeroporto. Il controllo di sicurezza dell'aeroporto, giusto? È un passo importante per i viaggi aerei. Assolutamente, John. Assicura la sicurezza di tutti i passeggeri e dell'aeromobile. Mi assicuro sempre di imballare i miei liquidi in un sacchetto di plastica trasparente per rispettare le normative. È una buona pratica, John. Fa risparmiare tempo durante il processo di controllo di sicurezza. Tolgo anche tutti gli oggetti metallici dalle mie tasche e li metto nel vassoio fornito. Lo stesso, John. Aiuta a evitare l'attivazione dei metal detector e accelera il processo. E non dimenticare l'elettronica. Devono essere tolti dai sacchetti e riposti separatamente nel vassoio. Giusto, John. Computer portatili, tablet e fotocamere di grandi dimensioni devono essere collocati in un vassoio separato per lo screening a raggi X. È importante seguire le istruzioni fornite dal personale di sicurezza per garantire un processo regolare. Assolutamente. La cooperazione e l'attenzione rendono il controllo di sicurezza più rapido ed efficiente. Mi assicuro sempre di vestirmi comodamente e di indossare scarpe facili da togliere e rimettere. Ottimo consiglio, John. Aiuta a superare i controlli di sicurezza senza problemi. È inoltre essenziale conoscere l'elenco degli articoli proibiti e assicurarsi di non trasportarne nessuno. Sì, John. Oggetti appuntiti, armi da fuoco e materiali infiammabili sono severamente vietati sui voli. E quando si tratta di bagaglio a mano, è fondamentale rispettare le restrizioni di dimensioni e peso. Giusto, John. Le compagnie aeree hanno linee guida specifiche per quanto riguarda le dimensioni e il peso dei bagagli a mano. È sempre una buona idea ricontrollare tali requisiti prima di recarsi in aeroporto. Assolutamente. Essere preparati e informati consente di risparmiare tempo ed evitare inconvenienti dell'ultimo minuto. Una volta superato il controllo di sicurezza, possiamo procedere verso il nostro gate di partenza e prepararci per il nostro volo. Esatto, John. Possiamo rilassarci e aspettare con ansia il nostro viaggio sapendo di aver completato il processo di sicurezza. La sicurezza aeroportuale serve a garantire la nostra sicurezza e, seguendo le regole, contribuiamo a un ambiente di viaggio sicuro. Non potrei essere più d'accordo, John. Diamo sempre priorità alla sicurezza e collaboriamo durante i controlli di sicurezza. Ti auguro viaggi sicuri e esperienze aeroportuali fluide, Anna. Che i nostri viaggi siano senza problemi. Lezione 5. Esplorando la libreria Ciao, Anna. Esploriamo insieme questa libreria. Adoro trovare nuovi libri da leggere. Certo, John. Sono sempre pronto a scoprire nuovi libri e ad ampliare la mia lista di letture. Cominciamo sfogliando le diverse sezioni. Hai un genere preferito? Mi piace la narrativa, in particolare i romanzi gialli ed avventura. E tu, John? Sono più incline alla saggistica, in particolare ai libri di storia e di miglioramento personale. Questo è interessante. È fantastico avere diverse preferenze di lettura. Possiamo esplorare entrambe le sezioni. Assolutamente. Dividiamoci e ci rivediamo qui tra 15 minuti. Possiamo condividere le nostre scoperte. Sembra un piano, John. Prima passerò alla sezione narrativa. Ci vediamo presto. Ci vediamo, Anna. Darò un'occhiata agli scaffali dei libri di saggistica. Buona caccia. John, guarda cosa ho trovato. Questo romanzo giallo ha recensioni entusiastiche. Sembra intrigante. È fantastico, Anna. I romanzi gialli sono sempre una scelta entusiasmante. Ho trovato una biografia che ha attirato la mia attenzione. Le biografie possono essere affascinanti. Di chi è la storia della vita che esplora? Parla di un famoso scienziato che ha fatto scoperte rivoluzionarie. Penso che sarà una lettura stimolante. Sono curioso di saperne di più su quello scienziato. Possiamo condividere i nostri libri e leggerli in modo intercambiabile. Ottima idea, Anna. Ci darà la possibilità di esplorare generi diversi e ampliare i nostri orizzonti. Assolutamente, John. Condividere consigli sui libri è un ottimo modo per scoprire nuovi autori e nuove prospettive. Non potrei essere più d'accordo, Anna. È come intraprendere un'avventura letteraria insieme. John, mi sono imbattuto in una sezione della letteratura classica. Penso che dovremmo esplorarlo anche noi. La letteratura classica è senza tempo e offre spunti profondi. Andiamo lì e vediamo quali tesori ci attendono. Guarda, John. Ho trovato un'edizione splendidamente illustrata di un classico molto amato. L'opera d'arte è sbalorditiva. È un gioiello, Anna. Le illustrazioni miglioreranno l'esperienza di lettura. Ho trovato una raccolta di opere teatrali di Shakespeare. Le opere di Shakespeare sono un tesoro letterario. Possiamo approfondire i suoi capolavori e discuterne in seguito. Ne sono entusiasta, Anna. È meraviglioso avere qualcuno con cui condividere la gioia di leggere e scambiare pensieri. La lettura è ancora più piacevole se condivisa. Possiamo ispirarci a vicenda e avere conversazioni significative. Assolutamente, Anna. Continuiamo la nostra esplorazione e troviamo altre gemme nascoste in questa libreria. Non potrei essere più d'accordo, John. Il mondo dei libri è vasto e c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire. Ecco il nostro viaggio letterario, Anna. Che possiamo trovare storie affascinanti e arricchire le nostre menti con la conoscenza. Complimenti, John. Immergiamoci nella magia dei libri e creiamo esperienze di lettura indimenticabili. Sono grata di avere una collega appassionata di libri come te, Anna. Sfruttiamo al massimo il nostro tempo in questa libreria. Bello! Hai provato altre attività virtuali, Anna? Assolutamente, John. Le attività virtuali sono diventate molto popolari. Ho provato un corso di cucina virtuale. Sembra interessante, Anna. Hai imparato qualche nuova ricetta? Sì, John. Ho imparato a preparare un delizioso piatto di pasta da uno chef italiano. È stata un'esperienza divertente ed educativa. È fantastico, Anna. In realtà ho partecipato a una sessione di yoga virtuale di recente. Lo yoga è ottimo per il relax e il fitness. Com'è andata la lezione virtuale? È stato meraviglioso, Anna. L'istruttore ci ha guidato in varie posse e dopo mi sono sentito ringiovanito. È incredibile, John. Le attività virtuali offrono comodità e l'opportunità di apprendere nuove competenze da casa. Assolutamente, Anna. Un'altra attività virtuale che mi è piaciuta è stato un laboratorio di pittura online. La pittura è uno sbocco creativo. Hai scoperto nuove tecniche pittoriche? Sì, Anna. L'istruttore ci ha insegnato diverse pennellate e metodi di miscelazione dei colori. È stato un ottimo modo per esprimermi artisticamente. Sembra un'esperienza appagante, John. Le attività virtuali forniscono una piattaforma per la crescita e l'esplorazione personale. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Hai provato concerti virtuali o esibizioni dal vivo? Sì, John. Ho assistito a un concerto virtuale della mia band preferita. È stato un modo unico per ascoltare musica dal vivo e entrare in contatto con altri fan. Meraviglioso, Anna. I concerti virtuali portano la gioia delle esibizioni dal vivo direttamente sui nostri schermi. Assolutamente, John. È incredibile come la tecnologia abbia reso possibili esperienze così coinvolgenti. I tour virtuali sono un'altra affascinante attività virtuale. Ne hai fatto qualcuno? Sì, John. Ho fatto un tour virtuale di un famoso museo. Mi sembrava di passeggiare tra le mostre comodamente da casa mia. È impressionante, Anna. I tour virtuali ci permettono di esplorare il mondo e conoscere culture diverse senza uscire di casa. Lo fanno, John. È un modo conveniente per soddisfare la nostra curiosità e ampliare le nostre conoscenze. Anche i programmi di scambio linguistico virtuale stanno guadagnando popolarità. Hai partecipato a qualcuno? Sì, John. Sono entrato a far parte di un gruppo di scambio linguistico virtuale in cui mi alleno a parlare con persone madrelingua di tutto il mondo. È fantastico, Anna. È un ottimo modo per migliorare le competenze linguistiche e creare connessioni internazionali. Assolutamente, John. Le attività virtuali hanno aperto un mondo di opportunità di crescita personale e scambio culturale. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Continuiamo a esplorare e a divertirci con le diverse attività virtuali a nostra disposizione. Sicuramente, John. Abbracciamo il mondo virtuale e sfruttiamo al meglio queste entusiasmanti esperienze. Ecco le meraviglie delle attività virtuali, Anna. Che continuino a ispirare e arricchire le nostre vite. Lezione 7. I must della cucina. L'efficienza è importante per me. Che mi dici degli strumenti? Qualche accessorio indispensabile per la cucina? Assolutamente, John. In termini di efficienza, un coltello da cuoco affilato è essenziale. Rende molto più semplice la preparazione dei cibi. Sono completamente d'accordo, Anna. Un buon coltello può far risparmiare molto tempo e fatica in cucina. Un altro strumento indispensabile è un robusto tagliere. Fornisce una superficie stabile per tagliare e previene danni e contro soffitti. Questo è un ottimo punto, Anna. Un tagliere affidabile è essenziale in cucina per una preparazione efficiente dei pasti. Trovo che anche un set di misurini e cucchiai abbia un valore inestimabile. Garantiscono precisione nella cottura e nella cottura. Misurini e cucchiai sono davvero essenziali, Anna. Aiutano a ottenere risultati coerenti nelle ricette. Assolutamente, John. Un altro strumento utile è una padella o padella versatile. È perfetto per soffriggere, friggere e saltare in padella. È vero, Anna. Una padella di alta qualità può essere utilizzata per una varietà di tecniche di cottura, rendendola una preziosa aggiunta alla cucina. Consiglio anche di avere un set di ciotole per mescolare. Sono versatili per mescolare ingredienti, marinare e persino servire. Le ciotole per mescolare sono decisamente utili, Anna. Rendono il processo di cottura più organizzato ed efficiente. Un altro must è una teglia o padella antiaderente. Garantisce un facile rilascio dei prodotti da forno e rende la pulizia un gioco da ragazzi. Una teglia antiaderente è un ottimo suggerimento, Anna. Semplifica il processo di cottura e mantiene la cucina ordinata. Trovo che un frullatore o un robot da cucina sia essenziale per varie attività come preparare frullati, salse e purèe. Assolutamente, Anna. I frullatori e il robot da cucina sono strumenti versatili che possono far risparmiare tempo e fatica in cucina. Un altro strumento utile è un set di spatole in silicone. Sono ottimi per raschiare le ciotole, piegare gli ingredienti e persino capovolgere i pancake. Le spatole in silicone sono davvero utili, Anna. Sono resistenti al calore e delicati sulle pentole, il che li rende uno strumento ideale per molte attività. Consiglio anche di avere un buon set di contenitori per la conservazione. Aiutano a mantenere gli ingredienti freschi e organizzati. È un ottimo suggerimento, Anna. I contenitori di conservazione adeguati sono fondamentali per mantenere la qualità e la longevità degli alimenti. Un altro strumento indispensabile è una robusta frusta. È perfetto per sbattere le uova, frullare le salse e incorporare aria nelle pastelle. Una frusta è sicuramente uno strumento essenziale, Anna. È versatile e aiuta a ottenere ingredienti omogenei e ben miscelati. Trovo indispensabile un pelapatate di qualità. Sbocciare frutta e verdure è un gioco da ragazzi e consente di risparmiare tempo nella preparazione dei pasti. Un buon pelapatate è davvero un risparmio di tempo, Anna. Semplifica l'operazione di pelatura e garantisce l'efficienza in cucina. Infine, è importante avere una priscatole affidabile. Rende l'apertura delle lattine rapida e semplice. Una priscatole è sicuramente un elemento essenziale in cucina, Anna. È uno strumento semplice che viene spesso trascurato ma molto apprezzato quando necessario. Assolutamente, John. Questi strumenti indispensabili possono migliorare l'efficienza e rendere la cottura un'esperienza più piacevole. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Dotare la cucina di questi elementi essenziali può semplificare il processo di cottura e risparmiare tempo prezioso. Assicuriamoci che le nostre cucine siano ben attrezzate con questi must-have, John. Cucinare sarà un gioco da ragazzi. Sicuramente, Anna. Diamo vita a esperienze culinari efficienti e divertenti con gli strumenti giusti a portata di mano. Lezione 8. Sistema operativo Android Perfetto. Ora, che mi dici del sistema operativo? Ho più familiarità con Android. Ottimo, John. Android è un popolare sistema operativo per dispositivi mobili. Offre una vasta gamma di funzionalità e opzioni di personalizzazione. Ecco perché preferisco Android, Anna. Mi piace avere la libertà di personalizzare il mio dispositivo in base alle mie preferenze. Assolutamente, John. Android ti consente di personalizzare la schermata iniziale, i widget e persino di installare app di terze parti al di fuori dell'App Store ufficiale. È fantastico, Anna. Mi piace la flessibilità e la varietà offerte da Android. Un altro vantaggio di Android è la sua integrazione con i servizi Google. Puoi sincronizzare facilmente contatti, email e calendario su tutti i dispositivi. Comodo, Anna. Avere tutto sincronizzato e accessibile da qualsiasi dispositivo Android è un grande vantaggio. Sicuramente, John. Android offre anche una vasta selezione di app sul Google Play Store. Puoi trovare app per vari scopi e interessi. Adoro esplorare nuove app, Anna. Avere una vasta gamma di opzioni sul Google Play Store è entusiasmante. Inoltre, i dispositivi Android sono disponibili in varie fasce di prezzo, il che li rende accessibili a una vasta gamma di utenti. Questo è un ottimo punto, Anna. Android offre opzioni per diversi budget senza compromettere la funzionalità. Uno dei punti di forza di Android è la compatibilità con diversi produttori di hardware. Puoi scegliere tra una varietà di dispositivi con design e specifiche diversi. Apprezzo avere delle opzioni quando si tratta di scegliere il dispositivo Android giusto, Anna. Mi permette di trovarne uno adatto alle mie esigenze e preferenze. Un'altra caratteristica importante di Android è la sua integrazione con Google Assistant. È possibile utilizzare i comandi vocali per eseguire varie attività e ottenere informazioni rapidamente. È impressionante, Anna. Avere un assistente virtuale come Google Assistant a portata di mano può migliorare la produttività e la comodità. Android supporta anche il multitasking, consentendoti di passare da un'app all'altra senza problemi ed eseguire più app contemporaneamente. Il multitasking è importante per me, Anna. Mi aiuta a rimanere efficiente e produttivo sul mio dispositivo. Assolutamente, John. Le funzionalità multitasking di Android rendono facile destreggiarsi tra diverse attività e app. Ci sono funzionalità o suggerimenti specifici per Android che consiglieresti, Anna? Una funzionalità utile è la possibilità di impostare le autorizzazioni delle app. Puoi controllare a quali autorizzazioni ha accesso ogni app, migliorando la tua privacy e sicurezza. Questo è un aspetto importante, Anna. Essere in grado di gestire le autorizzazioni delle app mi dà tranquillità. Un altro consiglio è quello di esplorare i vari widget disponibili su Android. I widget forniscono un rapido accesso alle informazioni e alle funzionalità direttamente dalla schermata principale. Darò sicuramente un'occhiata ai widget, Anna. Sembrano un modo conveniente per accedere a informazioni importanti senza aprire più app. Infine, ti consiglio di aggiornare regolarmente il tuo dispositivo e le tue app Android. Gli aggiornamenti spesso includono correzioni di bug, patch di sicurezza e nuove funzionalità. È un buon promemoria, Anna. Mantenere aggiornato il mio dispositivo Android mi assicura di disporre degli ultimi miglioramenti e miglioramenti della sicurezza. Assolutamente, John. È importante rimanere proattivi nel mantenere le prestazioni e la sicurezza del dispositivo Android. Grazie per aver condiviso queste intuizioni, Anna. Mi sento più fiducioso ed entusiasta all'idea di utilizzare il sistema operativo Android. Benvenuto, John. Android offre un'esperienza intuitiva e personalizzabile che sono sicuro che ti piacerà. Non vedo l'ora di esplorare tutte le funzionalità e le possibilità che Android ha da offrire. Ecco un viaggio emozionante con il sistema operativo Android. Lezione 9. Scegliere le mele Oggi vuoi mele rosse o verdi? Preferisco le mele rosse, John. Hanno un sapore leggermente più dolce rispetto a quelle verdi. È vero, Anna. Le mele rosse sono spesso anche croccanti e succose. Quanto costano di solito? Il prezzo delle mele può variare, ma in media sono abbastanza convenienti. Di solito puoi trovarli per circa un dollaro a due dollari per libra. È ragionevole, Anna. Le mele sono uno snack nutriente ed economico. Assolutamente, John. Sono ricchi di vitamine essenziali, minerali e fibre alimentari. Apprezzo i benefici delle mele per la salute, Anna. È bello sapere che sono sia gustose che nutrienti. Anche le mele rosse sono versatili, John. Puoi gustarle fresche, usarle nelle insalate o persino cuocerle in deliziosi dessert. È bello sentirlo, Anna. Mi piace avere delle opzioni quando si tratta di incorporare le mele nei miei pasti. Se ti piace cucinare, puoi provare a preparare torte di mele o crumble di mele con mele rosse. Aggiungono un sapore e una consistenza deliziosi. Sembrano deliziose, Anna. Li proverò sicuramente. Le mele rosse hanno delle varietà specifiche? Sì, ci sono diverse varietà popolari di mele rosse, come Gala, Fuji e Red Delicious. Ognuna ha il suo gusto e la sua consistenza unici. Lo terrò a mente, Anna. È interessante sapere che ci sono diverse opzioni nella categoria della mela rossa. Assolutamente, John. Puoi provare diverse varietà per scoprire la tua preferita. Alcuni sono più dolci, mentre altri hanno un sapore leggermente aspro. Sono entusiasta di esplorare i diversi gusti delle mele rosse, Anna. Sarà un'esperienza di degustazione divertente. Sicuramente, John. Gustare una varietà di frutta, comprese le mele rosse, è un ottimo modo per mantenere una dieta equilibrata e sana. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Incorporare frutta come le mele rosse nei nostri pasti aggiunge sapore e valore nutritivo. Ricordati di scegliere mele sode e prive di lividi o imperfezioni, John. Questo ti assicura di ottenere la migliore qualità. Grazie per il suggerimento, Anna. Mi assicurerò di selezionare mele rosse fresche e integre quando vado a fare la spesa. Benvenuto, John. Goditi le tue mele rosse e assaporane la dolcezza e la croccantezza naturali. Lo farò sicuramente, Anna. Le mele rosse sono ora in cima alla mia lista della spesa. Ecco a goderci uno spuntino gustoso e salutare. Lezione 10. Elementi essenziali per il viaggio Porta sempre con te una mappa e impara le frasi di base nella lingua locale. Ottimo consiglio, John. Una mappa può essere molto utile per navigare in luoghi sconosciuti. Sì, avere una mappa ti permette di orientarti ed esplorare nuove aree con sicurezza. È importante anche imparare frasi di base nella lingua locale. Ti aiuta a comunicare e interagire con la gente del posto. Assolutamente, Anna. Conoscere alcune frasi chiave come ciao, grazie e dove il bagno può fare una grande differenza. Dimostra rispetto per la cultura locale e le persone apprezzano lo sforzo che dedichi all'apprendimento della loro lingua. Sono d'accordo, Anna. È un ottimo modo per entrare in contatto con la gente del posto e creare interazioni significative. L'apprendimento di frasi di base ti aiuta anche a navigare in situazioni quotidiane come ordinare cibo o chiedere indicazioni stradali. È vero, Anna. Può rendere la tua esperienza di viaggio più fluida e piacevole. Inoltre, portare con sé una mappa e conoscere le frasi di base può aumentare la sicurezza durante il viaggio. In che modo, Anna? Puoi farmi un esempio? Certo, John. Supponiamo che tu sia perso o in una situazione di emergenza. Avere una mappa può aiutarti a ritrovare la via del ritorno o a individuare i punti di riferimento nelle vicinanze per chiedere assistenza. Questo è un buon punto, Anna. Una mappa può essere uno strumento prezioso nei momenti di bisogno. Allo stesso modo, se riesci a comunicare nella lingua locale, è più facile chiedere aiuto o indicazioni alla gente del posto. Ora capisco il collegamento, Anna. Imparare frasi di base può aiutarti a superare situazioni inaspettate e a chiedere assistenza quando necessario. Assolutamente, John. È sempre una buona idea essere preparati e dotati di questi elementi essenziali per il viaggio. Ci sono altri consigli di viaggio che consiglieresti, Anna? Un altro consiglio utile è quello di familiarizzare con le usanze e l'etichetta locali. Questo ti aiuta a rispettare la cultura locale ed evitare malintesi involontari. Ottimo consiglio, Anna. Essere consapevoli delle norme culturali può rendere le interazioni più piacevoli e rispettose. È anche una buona idea avere una copia di documenti importanti, come il passaporto e l'assicurazione di viaggio, in caso di smarrimento o emergenza. È un suggerimento pratico, Anna. Conservare copie di documenti importanti può farti risparmiare un sacco di problemi in circostanze impreviste. Infine, assicurati di avere una polizia assicurativa di viaggio che copra le emergenze mediche e le cancellazioni dei viaggi. Questo è un punto cruciale, Anna. L'assicurazione di viaggio offre tranquillità e protezione finanziaria durante il viaggio. Assolutamente, John. È meglio essere preparati e avere una rete di sicurezza in caso succeda qualcosa di imprevisto. Grazie per aver condiviso questi preziosi consigli di viaggio, Anna. Mi assicurerò di tenerli a mente per le mie avventure future. Benvenuto, John. Sono lieto che tu li abbia trovati utili. Buon viaggio e buone esplorazioni. Lo farò, Anna. Lo auguro a viaggi emozionanti ed esperienze memorabili rimanendo preparati e rispettosi. Lezione 11. Esplorazione di nuovi hobby Di recente ho iniziato un nuovo hobby e sono sicuro che ti piacerà. Fatemi sapere se avete domande lungo la strada. Sembra intrigante, John. Mi fa piacere sapere del tuo nuovo hobby. Di cosa si tratta? Ho iniziato a fotografare, Anna. È un modo meraviglioso per catturare momenti ed esprimere la creatività. La fotografia può essere un hobby affascinante, John. Che tipo di fotocamera stai usando? Sto usando una fotocamera digitale, Anna. Mi permette di sperimentare diverse impostazioni e di rivedere e modificare facilmente le mie foto. Ottimo, John. Le fotocamere digitali offrono molta flessibilità e convenienza per gli appassionati di fotografia. Anna. Sto ancora imparando le basi, come la composizione e l'illuminazione, ma finora è stato un viaggio gratificante. Sono felice di sentirlo, John. La fotografia offre infinite possibilità per catturare la bellezza e raccontare storie. Assolutamente, Anna. Ho esplorato diversi generi come paesaggi, ritratti e fotografia di strada. Hai incontrato difficoltà lungo la strada, John? Sì, Anna. Una sfida che ho dovuto affrontare è stata comprendere gli aspetti tecnici della fotografia, come l'apertura e la velocità dell'otturatore. Questi possono essere concetti difficili da comprendere, John. Hai trovato risorse o corsi per aiutarti a imparare? L'ho fatto, Anna. Ho guardato dei tutorial online e sono entrato a far parte di una community fotografica in cui fotografi esperti offrono consigli e feedback. È un ottimo approccio, John. Imparare dagli altri e cercare una guida può aiutarti a progredire più velocemente nel tuo hobby. Sono d'accordo, Anna. È anche importante esercitarsi regolarmente e sperimentare diverse tecniche per migliorare. Sono curioso, John. Hai scattato foto di soggetti o temi specifici? Sto immortalando una varietà di soggetti, Anna. Dalla natura e dall'architettura ai ritratti di amici e familiari. Sembra diverso e interessante, John. Sono sicuro che hai immortalato alcuni momenti memorabili. Sì, davvero, Anna. La fotografia mi permette di fermare momenti nel tempo e creare ricordi duraturi. Hai delle foto preferite che hai scattato finora, John? È difficile sceglierne solo uno, Anna. Ma ho una foto di un tramonto con colori vivaci di cui sono particolarmente orgoglioso. Immagino che debba essere una ripresa incredibile, John. I tramonti hanno un modo per affascinare i nostri sensi. Lo fanno davvero, Anna. La bellezza della natura è spesso una grande ispirazione per i fotografi. Sono lieto che tu abbia trovato tanta gioia nella fotografia, John. È meraviglioso avere un hobby che ti dia soddisfazione. Grazie, Anna. È stato un viaggio emozionante e ti incoraggio a esplorare anche nuovi hobby. Apprezzo l'incoraggiamento, John. Lo terrò sicuramente a mente, e ti farò sapere se ho domande lungo la strada. Sembra fantastico, Anna. Esplorare nuovi hobby può essere un modo fantastico per scoprire passioni nascoste e arricchire la nostra vita. Lezione 12. Fare la spesa. Abbiamo gli ingredienti per la cena di stasera? Fammi controllare. Certo, John. Prenditi il tuo tempo e vedi se abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Ottime notizie, Anna. Abbiamo tutti gli ingredienti sulla lista. È fantastico, John. Ci evita di andare a fare la spesa. È sempre un sollievo avere tutto ciò di cui abbiamo bisogno a casa. Assolutamente, John. Rende la cottura molto più comoda e piacevole. Allora inizierò a preparare il pasto. Sarà delizioso. Non vedo l'ora, John. Cosa mangiamo per cena? Stiamo mangiando spaghetti con salsa marinara fatta in casa e polpette. Sembra appetitoso, John. Sono contenta che abbiamo tutti gli ingredienti pronti. Anch'io, Anna. Cucinare con ingredienti freschi e di qualità è soddisfacente. Sono d'accordo, John. Esalta i sapori e dà al piatto un tocco casalingo. Inoltre, di solito è più salutare che affidarsi a cibi trasformati e confezionati. Questo è un buon punto, John. Cucinare da zero ci permette di controllare cosa c'è nei nostri pasti. Assolutamente, Anna. Possiamo regolare i sapori e soddisfare le nostre preferenze. È anche un ottimo modo per esplorare diverse cucine e provare nuove ricette. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Cucinare a casa apre un mondo di possibilità culinarie. E può essere un'attività divertente da fare insieme, John. Possiamo creare legami e creare qualcosa di delizioso. Mi piacciono le nostre sessioni di cucina, Anna. È il momento per noi di connetterci e rilassarci. Anch'io, John. È un modo meraviglioso per trascorrere del tempo di qualità insieme. La salsa sta cuocendo a fuoco lento e le polpette stanno cuocendo. L'aroma è incredibile. Posso già immaginare i deliziosi sapori, John. Mi sta facendo venire fame. La cena sarà pronta presto, Anna. Apparecchierò la tavola mentre prendi da bere. Sembra un piano, John. Facciamo in modo che sia un pasto speciale. Assolutamente, Anna. Abbiamo tutto quello che ci serve per una cena perfetta stasera. Sono momenti come questi che mi fanno apprezzare le semplici gioie della vita. Mi sento allo stesso modo, Anna. Assaporiamo questo pasto e godiamoci la reciproca compagnia. Complimenti, John. Buon cibo, buona compagnia e la gioia di avere tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Saluti, Anna. Approfondiamo e godiamoci la nostra deliziosa cena fatta in casa. Presto, buone notizie, signor Smith. La tua camera è disponibile. È bello sentirlo, John. Il signor Smith deve sentirsi sollevato nel sapere che la sua stanza è pronta. Sì, è sempre un sollievo quando tutto procede senza intoppi con le prenotazioni alberghiere. Assolutamente, John. È importante che gli ospiti abbiano un'esperienza senza interruzioni durante il loro soggiorno. Anzi, Anna. Fornire un eccellente servizio clienti è fondamentale nel settore dell'ospitalità. Abbiamo tutti i dettagli necessari per la prenotazione del signor Smith? Fammi controllare, Anna. Sì, abbiamo tutto. Il suo check-in è domani e rimarrà per tre notti. Perfetto, c'è qualche preferenza specifica per la camera menzionata nella sua prenotazione? Sì, Anna. Il signor Smith ha richiesto una camera per non fumatori con vista sullo skyline della città. Sembra una bella scelta, John. Sono sicuro che apprezzerà la vista. Lo spero, Anna. Facciamo sempre del nostro meglio per soddisfare le preferenze degli ospiti e rendere il loro soggiorno piacevole. Assolutamente. L'attenzione ai dettagli e un servizio personalizzato possono fare una grande differenza. Ci sono altre informazioni che dobbiamo fornire al signor Smith al suo arrivo? Sì, John. Dovremmo informarlo sui servizi dell'hotel, come il centro fitness e la colazione gratuita. Ottima osservazione, Anna. È importante assicurarsi che gli ospiti siano a conoscenza delle strutture a loro disposizione. Dovremmo inoltre informarlo di eventuali promozioni o eventi in corso durante il suo soggiorno. Ottima idea, Anna. Permette agli ospiti di sfruttare a pieno il loro tempo in hotel. Abbiamo richieste o requisiti speciali indicati nella prenotazione del signor Smith? Fammi ricontrollare, Anna. Sì, richiedeva un cuscino extra e una sveglia ogni mattina. Faremo in modo di soddisfare prontamente tali richieste, John. La soddisfazione degli ospiti è la nostra massima priorità. Assolutamente, Anna. Fare il possibile per i nostri ospiti può lasciare un'impressione positiva duratura. C'è altro che dobbiamo preparare per l'arrivo del signor Smith? Dovremmo avere la sua chiave e il pacchetto di benvenuto pronti alla reception, Anna. Questo è importante, John. Una procedura di check-in senza intoppi al presupposto per un piacevole soggiorno. D'accordo, Anna. Il nostro obiettivo è far sentire ogni ospite apprezzato e a suo agio. Sono sicuro che il signor Smith avrà un'ottima esperienza nel nostro hotel. Lo spero, Anna. Ci impegniamo a superare le aspettative dei nostri ospiti e a creare soggiorni memorabili. Assicuriamoci che ogni dettaglio sia curato, John. L'attenzione ai dettagli fa la differenza. Assolutamente, Anna. Faremo in modo che il soggiorno del signor Smith sia eccezionale dall'inizio alla fine. Ottimo lavoro, John. La tua attenzione ai dettagli e la tua dedizione alla soddisfazione degli ospiti sono incomiabili. Grazie, Anna. È un lavoro di squadra e sono lieto di contribuire alle esperienze positive dei nostri ospiti. Continua con l'ottimo lavoro, John. I nostri ospiti sono in buone mani grazie al vostro servizio eccezionale. Apprezzo le tue gentili parole, Anna. Offrire un soggiorno memorabile ai nostri ospiti è un'esperienza gratificante. Lezione 14. Preferenze delle camere d'albergo. Preferirei una camera con vista, se possibile. Certo, John. Vorrei verificare la nostra disponibilità di camere con vista. Grazie, Anna. Mi piace sempre svegliarmi con una splendida vista panoramica. Buone notizie, John. Abbiamo una camera al quinto piano con una vista mozzafiato sullo skyline della città. Sembra perfetto, Anna. Apprezzo il tuo aiuto nel mettere in sicurezza una camera con vista. È un piacere, John. Vogliamo che il tuo soggiorno sia il più piacevole possibile. La camera al quinto piano è spaziosa e confortevole? Assolutamente, John. La camera è una delle nostre opzioni deluxe, offre ampi spazi e comfort moderni. È bello sentirlo, Anna. Il comfort e la comodità sono importanti per me. Ci impegniamo a fornire ai nostri ospiti un'esperienza confortevole e memorabile. Sono felice di sentirlo, Anna. È importante sentirsi a proprio agio quando si sta lontani da casa. Hai altre preferenze o requisiti specifici per la tua camera? Un letto comodo e un bagno ben arredato sono essenziali per me, Anna. Tranquillo, John. Le nostre camere sono dotate di letti lussuosi e bagni ben curati. È fantastico, Anna. Una buona notte di sonno e una doccia rinfrescante sono fondamentali per iniziare bene la giornata. Non potrei essere più d'accordo, John. Vogliamo che tu ti senta ringiovanito durante il tuo soggiorno. Ci sono dotazioni o servizi aggiuntivi disponibili in hotel? Sì, John. Abbiamo un centro fitness, un ristorante e un centro business per la comodità dei nostri ospiti. È bello saperlo, Anna. È bello avere accesso a questi servizi mentre si viaggia. Ci impegniamo a fornire una gamma di servizi per soddisfare le diverse esigenze dei nostri ospiti. Apprezzo lo sforzo, Anna. Dimostra che apprezzi il comfort e la soddisfazione dei tuoi ospiti. Grazie, John. Il nostro obiettivo è creare un'esperienza accogliente e piacevole per tutti. C'è altro che dovrei sapere sull'hotel o sulle sue politiche? La reception è aperta 24 ore su 24, e il nostro personale è sempre pronto ad assisterti, John. È rassicurante, Anna. È bello sapere che l'aiuto è disponibile ogni volta che è necessario. Ci impegniamo a fornire un servizio rapido e attento per garantire un soggiorno piacevole ai nostri ospiti. Sono felice di sentirlo, Anna. È confortante sapere che mi prenderemo cura di me. È un piacere, John. Non vediamo l'ora di offrirti un'esperienza memorabile. Grazie, Anna. Apprezzo la tua assistenza nell'organizzare una camera con vista e nel fornire tutte le informazioni necessarie. Sei il benvenuto, John. È un piacere assisterti. Se avete ulteriori domande o richieste, non esitate a farmelo sapere. Lo farò, Anna. Grazie ancora per il vostro eccezionale servizio. Non vedo l'ora di soggiornare nel vostro hotel. Lezione 15. Upgrade del posto di volo. Cosa succede se voglio aggiornare il mio posto? Ottima domanda, John. Puoi chiedere informazioni sull'upgrade dei posti al banco del check-in. È possibile passare a una classe superiore durante il volo? Dipende dalla disponibilità, John. Puoi sempre chiedere all'assistente di volo una volta salito a bordo. Capisco. Sono previsti costi aggiuntivi per l'upgrade dei posti? Sì, potrebbe esserci un costo aggiuntivo per l'upgrade a una classe superiore o a un posto migliore. Quali sono i vantaggi dell'upgrade del mio posto? L'upgrade del sedile può offrire più spazio per le gambe, maggiore comfort e servizi migliorati, John. Sembra allettante, Anna. Renderebbe il volo più piacevole e rilassante. Davvero, John. Gli upgrade dei posti possono offrire un'esperienza più esclusiva durante il viaggio. Come posso richiedere un upgrade del posto al banco del check-in? Puoi semplicemente chiedere all'addetto al check-in se sono disponibili opzioni di upgrade del posto, John. Questo è semplice. Mi assicurerò di informarmi al momento del check-in per il mio volo. Vale sempre la pena chiedere, John. A volte potrebbero esserci disponibilità all'ultimo minuto per gli upgrade. Cosa succede se non sono disponibili upgrade di posti? Se non ci sono upgrade disponibili, ti verrà comunque assegnato il posto, John. Capisco. È positivo avere delle opzioni, ma mi accontenterò del posto che mi è stato assegnato se non sono disponibili upgrade. È un'ottima mentalità, John. La cosa più importante è godersi il viaggio. Assolutamente, Anna. Un atteggiamento positivo può rendere ogni volo più piacevole. C'è altro che vorresti sapere sull'upgrade dei posti, John? Posso richiedere un upgrade del posto al momento della prenotazione del mio biglietto aereo? Sì, puoi chiedere informazioni sugli upgrade dei posti durante il processo di prenotazione, John. Buono a sapersi, Anna. Mi dà l'opportunità di assicurarmi un posto migliore in anticipo. Pianificare in anticipo è sempre una buona idea, John. Aumenta le possibilità di ottenere il posto che desideri. Esistono requisiti o criteri di idoneità specifici per gli upgrade di posto? I criteri di idoneità per l'upgrade del posto possono variare a seconda della compagnia aerea e del volo, John. Capisco. È meglio consultare la compagnia aerea o consultare il loro sito web per informazioni dettagliate, giusto? Assolutamente, John. Il sito web o il servizio clienti della compagnia aerea possono fornirti informazioni accurate e aggiornate. Grazie per aver chiarito, Anna. Mi assicurerò di fare le mie ricerche prima del mio prossimo volo. Benvenuto, John. Essere ben informati è fondamentale per un'esperienza di viaggio fluida e senza problemi. Apprezzo il tuo aiuto, Anna. Le tue intuizioni sono state preziose per comprendere gli upgrade dei posti. Sono lieto di esserti stato utile, John. Se avete altre domande, non esitate a chiedere. Lo farò, Anna. Grazie ancora per l'assistenza e i consigli. È un piacere, John. Buon volo e buon viaggio. Grazie, Anna. Non vedo l'ora. Grazie. Grazie.